ciao a tutti benvenuti nella mia cucina oggi preparo un classico per la festa di papà le zeppole di san giuseppe andiamo a vedere insieme il procedimento durante il video spiegherò bene come si preparano e svelerò qualche segreto per farlo in modo perfetto e veloce allacciate il genviule e iniziamo qua mi raccomando facciamo assorbire bene l'uovo all'impasto prima di procedere con il prossimo un piccolo trucco per non far scivolare la carta è attaccarlo con un po' di impasto per avere delle zeppole belle gonfie vi svelo un trucco dopo la cottura li lasciamo ancora al forno con lo sportello aperto per altri cinque minuti ora prepariamo la crema pasticcera a A presto. Le nostre zeppole le possiamo farcire in due modi, sia dentro che fuori o solamente fuori. Ed ecco qua il risultato delle nostre zeppole. Non ci resta che gustale. Con l'occasione faccio gli auguri a tutti i papà.